Ciao a tutti ragazzi, bentrovati finalmente, è un sacco di tempo che non ci vediamo ma voglio assolutamente farvi vedere qualcosa che mi è arrivato oggi lo voglio aprire insieme a voi voglio soltanto dire una cosa, voglio ringraziare Zavi perché ha dato fiducia ovviamente al progetto di interviste dal futuro quindi a Back to the Future Memorabilia e il Valle Italia quindi bando alle ciance e voglio farvi vedere esattamente di che cosa si tratta si tratta di abbigliamento che mi è arrivato da ovviamente della mia taglia e che andremo a vedere insieme per cui innanzitutto ricordatevi questo avete la possibilità di avere un codice sconto quindi se acquistate tutto il merchandising soltanto per quanto riguarda l'abbigliamento avrete uno sconto del 20% è molto facile, entrate nel sito che è www.zavi.it e scegliete tutto il merchandising appunto di abbigliamento e inserite alla fine, prima del pagamento, codice sconto interviste dal futuro mi raccomando ecco qua il primo articolo questa è una maglia ovviamente ufficiale di Zavi è la maglia di Back to the Future modello donna, modello femmina per cui andremo a esplorare insieme il tessuto, la vestibilità quindi dopo andrò anche a vestirmi questa è la maglia come vi dicevo prima guardate se è carina nera e fucsia modello donna io ho messo anche lo smalto proprio a tema della maglia guardate che carina c'è tutta la scritta davanti con BTTF il codice bar il simbolo del plutonico oltretutto è quello proprio uguale al nostro logo di interviste dal futuro con il flusso canalizzatore e c'è la parte dietro invece rappresentata dalla Delorean così schematizzata assomiglia un po' a uno stile anni 80 l'ho trovata veramente bella intanto posso dirvi che anche il tessuto è molto grosso quindi non è una maglia di quelle che appena lavi in lavatrice o indossi dopo non riesci neanche più a stirarla che questo è il grande problema veramente per chi come me si diletta a stirare quindi lo trovo innanzitutto anche al tatto con la stampa ben definita non è sgranata e come vi dicevo prima il tessuto è veramente veramente spesso veramente grosso anche la stampa dietro della Delorean è fatta molto dettagliata non è sgranata vedete c'è scritto Back to the Future 1.21 giga watt il secondo articolo che mi è arrivato mi fa impazzire perché è la felpa fatta a giacca fatta a college stile americano dove ha il logo ricamato qua di Back to the Future quindi è una felpa però con i bottoni questa è unisex non c'è uomo e donna come vedete ha i bottoni è felpatina quindi è proprio una felpa però fatta a giacchetta il dietro è assolutamente nero non ci sono loghi, non ci sono scritte, non ci sono ricami ed è veramente appunto come quella dei college americani quindi bando di ciance vado a provarmi sia la maglia che la felpa così vediamo un po' com'è la vestibilità ed ecco qua la maglia ragazzi è veramente carina devo dire che io ho preso una L perché mi piace stare un po' più morbida un po' più larga e porto una 44 dipende io ho preso una L ed effettivamente molto molto morbida anche perché magari durante il lavaggio potrebbe insomma restringersi quindi però è la sua vestibilità veramente la maglia è carina se faccio vedere guardate con il codice e soprattutto da donna mi piace che sia un po' con la manica così a barchetta quindi secondo me è veramente un prodotto che c'è solo da Zavi veramente unica nel suo genere e infine la felpa ho messo la felpa sopra alla maglietta di prima io vado a nozzi io ho una vita che desideravo questa felpa stile college come vi dicevo prima qui c'è il logo ricamato anche le tasche quindi è una felpa con le tasche ci sono i bottoni adesso togliamo i bottoni sbottoniamo qua c'è la mia maglietta di prima e ho preso una S perché la taglia è unica è unisex quindi magari ho pensato che fosse da uomo quindi se ci sono delle ragazze che la vogliono mi raccomando prendete la S ovviamente sempre in base alla vostra statura insomma alla vostra taglia una felpa barra 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 giacca che la trovo ben definita anche questa nulla veramente da dire anzi non aspettavo le tasche credevo che fossero cucite invece sono proprio come vedete vedere sono tasche aperte troverete tutti i dettagli all'interno di questo video nella descrizione dal sito al codice sconto a eventuali modelli che vi ho fatto vedere proprio proprio prima quindi sia la maglia che la felpa ricordatevi soltanto una cosa quindi ve lo ridico prima del pagamento inserite il codice sconto intervista dal futuro tutto attaccato mi raccomando ok partiamo con l'abbigliamento e poi ci saranno altre sorprese quindi veramente un grazie di cuore a Zavi per la fiducia un grazie al Valle che comunque ha collaborato a questo progetto e come dico sempre alla fine di ogni video ci vediamo alla prossima diretta o al prossimo unboxing ciao ciao